Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale Intanto vi voglio ricordare raga che se giocate all xbox c'è il mio gruppo telegram sia per next gen sia per old gen E' un po' che non lo ricordo e adesso possiamo iniziare con il glitch, ovviamente i link in descrizione raga Allora oggi andremo a fare l'OTR infinito, staremo sempre off radar Oggi Savix ha voluto portare questo glitch e creare un po' di scompensi nelle lobby ragazzi Ogni tanto una volta ogni morte di papa è giusto che anche Savix porta questa roba Quindi il requisito di fare questo glitch non ci servirà nient'altro che il Freak Shop che è gratis E il Brick Aid che basta completare le missioni e poi costerà poco raga Una volta che abbiamo il Brick Aid all'interno del Freak Shop entriamo dentro il Brick Aid raga E cosa facciamo? Dovremo andare ad avere un elenco partite con una gara stanta all'interno Ora vi faccio vedere il metodo, dopo vi spiego come fare l'elenco Quindi vedete vado sui miei elenchi partite, vado a cercarmi un elenco partite con una gara solo all'interno Tipo quella che avevamo creato per la IAA per il beige E andiamo a spammare ragazzi A o X se giocate da PS Come vedete cliccheremo anche sullo slot per uscire Ci farà questa animazione e entreremo dentro l'attività la gara stanta ragazzi Con di sottofondo tutto glitchato A questo punto quittiamo l'attività e una volta che abbiamo quittato l'attività e siamo spawnati E sbada bam ragazzi OTR infinita Potremo morire 200.000 volte raga e non si sbagherà mai Quindi come creiamo l'elenco Start ragazzi online Andiamo sulle attività Andiamo a cercarci le gare stante OTRING E andiamo a metterla tra i preferiti Cliccando X per Xbox o quadrato per PS ragazzi Una volta aggiunta torneremo su gli elenchi partite Facciamo crea Andiamo su le attività che abbiamo messo tra i preferiti La aggiungiamo Salviamo l'elenco partite raga E avrete fatto l'elenco per fare il glitch Quindi raga Che dire lasciate un like se vi è piaciuto il video Lasciate un commento Iscrivetevi E se volete partecipare alla nostra family Abbonatevi ragazzi Ci sono un sacco di agevolamenti Bella raga Alla prossima Sbada bam Alla prossima Alla prossima Alla prossima